Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando di una legge approvata in aula, in Palazzo del Pegaso, una legge che fa d'apripista anche a livello nazionale e che riguarda le modalità con cui combattere il cosiddetto stress termico sui luoghi di lavoro soprattutto durante il periodo estivo. Sviluppare la collaborazione tramite specifici accordi tra soggetti pubblici e se necessario anche privati per individuare e attuare azioni coordinate nelle materie di competenza regionale, inclusa la sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in riferimento ai rischi legati all'esposizione a temperature estreme e dei lavoratori. È quanto prevede la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale per la prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro, un provvedimento apripista a livello nazionale sul tema. Una canicola che ormai non è più un'emergenza, è una costante perché sono già diversi stati in cui per periodi più o meno lunghi le temperature raggiungono vette altissime e questo ha un impatto sulla salute di chi lavora, soprattutto di chi lavora in determinate condizioni. È una proposta che è diventata legge, che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Chiediamo quindi alle istituzioni, ai soggetti attraverso questa legge di mettere in campo una sinergia ancora più forte, di mettersi a un tavolo, stilare protocolli, accorgimenti, misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro. Noi crediamo che questo sia un elemento di attenzione e di civiltà che la nostra regione non poteva non fare. Quindi devo registrare con grande piacere che la proposta è stata approvata con unanimità sia in Commissione sia in Aula, a dimostrazione di quanto evidentemente nel momento in cui si parla di sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori, non bisogna dividersi politicamente ma muoversi nella medesima direzione e nell'interesse di tutti i cittadini. Diciamo che in Commissione Sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento, ma è una questione di buonsenso. Inizialmente in Commissione avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi discutendo credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono per esempio a Dubai degli orari di lavoro che sono notturni, quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno presi in considerazione. Si dice che non ci sono le mezze stagioni, in realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense sia estive che invernali. Vedete i vari acquazzoni che leggiamo quotidianamente. Per cui a parte gli scherzi credo che questa legge sia appunto una legge di buonsenso che ribadisce certe situazioni cambiate nell'arco degli anni. Doveva essere un intervento tempestivo da parte della regione toscana così come lo hanno fatto quelle della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Doveva intervenire secondo noi con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi nelle ori centrali della giornata doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione. Agendo in questo modo con una proposta di legge che sicuramente è positiva ma non risolve nell'immediato il problema, non si va al nocciolo del problema che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati. Tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte. La regione, soprattutto quando si tratta di controlli con le asle per verificare dove queste condizioni sussistono o meno e poter agire. L'ordinanza era l'unico modo per poter andare diretti al problema e invece così facendo si è messo un pannicello caldo ma niente di più. È stata molto più coraggiosa l'iniziativa delle altre regioni sicuramente. È una proposta che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che a fronte di un cambiamento climatico che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare ma di verificare con forza e tenga conto di queste necessità. Ci sono operatori nel campo dell'edilizia, nel campo dell'agricoltura che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare. Che cosa è che si chiede? Il rispetto di questi lavoratori mantenendo lo stesso orario di lavoro ma sposticipato dalle ore centrali e quelle più calde. Il che non influisce appunto sulla produttività ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Bisogna tenere conto che in questo paese a norme che tutelano gli animali dal lavoro in caso di climi torridi o oltre una certa temperatura, la norma sui Fiaccherai e a Firenze è un esempio, è più che opportuno tenere conto di questi cambiamenti climatici e andare incontro alle necessità dei lavoratori che fanno anche lavori complicati e complessi. L'altro giorno ho avuto modo di seguire un signore che lavora sulla gru a 50 metri d'altezza che sposta pesi enormi e diceva che mi sono quasi sentito svenire e se non bloccavo la gru e scendevo rischiavo di fare grossissimi danni. Quindi non soltanto tutelare i lavoratori ma tutelare anche tutti i cantieri e le cose che abitano o vivono intorno ad essi. E in Consiglio regionale è stata approvata anche una risoluzione che riguarda la tematica del sistema fieristico integrato in Toscana, non solo quello principale relativo al capoluogo, ovvero Firenze. La Giunta Toscana dovrà attivarsi per favorire lo sviluppo di un sistema fieristico integrato della Regione, salvaguardando la specificità dei singoli poli fieristici quali Firenze, Arezzo e Carrara e definendo una strategia unitaria per coordinare le diverse attività all'interno di un unico calendario annuale. E' quanto prevede una risoluzione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale e collegata alla comunicazione della Giunta sul futuro di Firenze Fiera. Una situazione delicata da quale Firenze Fiera deve uscire, la Regione deve fare la sua parte, così come gli altri soci pubblici, ma anche con la ricerca di un partner privato che avverrà attraverso un bando di manifestazione di interesse. In altre situazioni questa presenza ha anche funzionato, ma dobbiamo cogliere questa occasione, così come abbiamo sollecitato anche in precedenza, per dotare la Toscana di un polo fieristico unico o comunque coordinato. Noi abbiamo tre strutture fieristiche, che è Firenze Fiera, sicuramente la più attrattiva dal punto di vista logistico, perché Firenze è ovviamente una città che è riconosciuta nel mondo, ma abbiamo anche la struttura di Carrara e la struttura di Arezzo. Ecco, in questo percorso che riguarda Firenze Fiera, l'invito che abbiamo rivolto all'assessore e alle Giunte è quello anche di creare le condizioni e spingere perché in Toscana ci sia una proposta fieristica coordinata. La decisione è di non partecipare al voto perché la risoluzione presentata dal Partito Democratico aveva una parte estremamente condivisibile che riguardava la volontà di creare un calendario unico che è assolutamente necessario in Toscana che coordini le tre fiere principali, cioè la fiera di Carrara, quella di Arezzo e quella di Firenze. Quindi quella parte lì ci trovava favorevole. Ovviamente nella prima parte del testo si esprimeva grande soddisfazione per la scelta della Regione Toscana su Firenze Fiera e quello per noi era invotabile e inaccettabile perché c'è tutto tranne che da esprimere grande soddisfazione. La Regione Toscana si appresta insieme al Comune di Firenze, insieme alla città metropolitana a spendere in Firenze Fiera altri 16 milioni di euro oltre a tutti quelli che sono stati spesi fino ad oggi e lo fa su un soggetto incapace di fare attività imprenditoriale. Questo non lo dice Fratelli d'Italia, lo dicono i fatti. Firenze Fiera è 15 anni che non chiude un bilancio in pareggio o inattivo, ne ha chiusi forse uno nel 2010. Poi ha sempre perso, ha già un bilancio disastroso, è governata da una figura che con tutto il rispetto umano e politico è anche personale perché ci sono anche amico personalmente, non è in grado di fare il manager. È un politico che ha come merito quello di aver fatto politica per anni col Partito Democratico, ma questo non può essere il merito per cui tu vai a governare un ente fieristico. Ok, dall'Assemblea Toscana anche ad una nuova legge che riguarda la raccolta dei tartufi e naturalmente dispone ulteriori modifiche al provvedimento precedente regolamentando ancora di più quello che già era all'ordine del giorno in materia. Cambiano le norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartufficolo toscano. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la nuova legge che modifica la normativa vigente in materia. Ha approvato anche un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a implementare già dalla prossima variazione di bilancio le risorse destinate agli interventi di valorizzazione e promozione, prevedendo uno stanziamento minimo per i prossimi esercizi di almeno 150 mila euro annui. La legge va esattamente nella direzione di tutelare quello che è un patrimonio della regione toscana, che è una delle maggiori regioni a livello italiano per la coltivazione e la cerca del tartufo, con circa 4 mila tesserini ogni anno che si dividono fra zone coltivate e zone di libera cerca. Quindi è quello che è stato l'interesse oggetto di questa modifica di legge per le mutate condizioni della normativa nazionale, ovviamente, è stato quello di trovare un punto d'equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno modalità di coltivazione tutto l'anno, sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale, con un'attenta anche mappatura che dovrà essere redatta ancora più precisamente sulle zone che siano effettivamente e realmente produttive di tartufo, cercando di limitare e di dare una definizione precisa agli orari per la cerca del tartufo, alle zone di addestramento cani e quindi quelle che sono le regole sia per la regione ma anche per i comuni per disciplinare quella che è una materia sicuramente molto complessa e molto importante e una grande fonte non solo di economia ma anche di hobby per questa regione che ne fa di un prodotto di grande valorizzazione e di richiamo in tutta la nostra regione. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro e lasciare libera la raccolta e la fruzione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo ma ovviamente a favore del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta ma anche della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Chi coltiva una tartufaia, chi lo produce, chi la lavora, chi mette in sicurezza idraulica un territorio fa un lavoro, per il territorio lo fa per se stesso, lo fa dentro un quadro di regole che in questo momento consentivano a molti ragazzi e a molte ragazze di fare impresa. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato il lavoro, debba essere tutelata la promozione, debba essere tutelata la valorizzazione di un prodotto che è sì del territorio, è sì spontaneo ma se coltivato produce una redditività importante e una produzione. Questi dunque i principali temi trattati nella puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento su RTV38 tornerà a settembre, a pochi giorni dalla ripresa delle attività ufficiali del Consiglio regionale della Toscana. È davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci. Grazie a tutti.